Allora, è ora di andare. Abbraccia forte la mamma, è molto fragile. Papà è distrutto, ricordati di chiamarlo presto. Dopo 24 anni di matrimonio, Henry e Nancy Clark sono finalmente soli. È fantastico, soli, sole. Era il momento ideale per un cambiamento. Perché non vi frustrate a vicenda col bambino? No, veramente usiamo ancora la crava. Oh, è tardi. Lasciare il Midwest per un piccolo viaggetto a Manhattan. Bella città, vero? New York è avvolta dalla nebbia, siamo costretti ad atterrare a Boston. Dove sono i bagagli? Non sono usciti. Ci sono altre valigie, noi dovevamo... Non è il nostro bagaglio! Ma ora che sono partiti... È questo il treno delle 338 per New York? No, è quello. Se ne pentiranno. Dobbiamo trovare una macchina. Utilitaria, media o di luce? Ah, utilitaria. Le utilitarie sono... Una media andrà benissimo. Non abbiamo più, mi dispiace. Abbiamo soltanto una berlina di luce. Qui dice abbiamo macchine, meglio dire ne abbiamo una. Questa volta... Siamo arrivati! È così bella. Non c'è niente di più accattivante. Sembra che ci sia un piccolo problema con la sua carta di credito. Ma non esitate a tornare. Quando avrete i soldi... Non può fidarsi di noi. Dacci! Oh, eccitante! E sarà che siamo degli insignificanti provinciali, ma io so quali sono i miei diritti. Oh, fermo! Oh, coinvolgente! Non ci posso credere! Prenditi un'aspirina! Di un viaggetto! Tesoro, lo so che hai preso una lucina oggi nel prigione. This is the turning of the age of... Dobbiamo amare di più e imparare ad amare perché... Ah, c'è... Ah, c'è... Ah, c'è... Ah, c'è... Facciamocela! La Palomaound Pictures, presenza... Oh, Henry... Oh... Steve Martin... God the Old... E John Cleese. Sta ballando vestito da donna! Siamo tornati! Signore e signora class 2, la vendetta... Ci sta buttando fuori? Per l'amore del cielo no, a questo feste sarà la sicurezza!